Oggi, 27 febbraio 2018, la città di San Giorgio e Cremano, come tante altre nel napoletano, si è svegliata totalmente in nevata, evocando sorpresa, stupore e meraviglia a tutti i cittadini. Uno scenario spettacolare che attratto numerosi ragazzi e bambini scesi strada per giocare e divertirsi con la neve, visto anche il provvedimento che ha disposto la chiusura delle scuole. Momenti unici per la cittadina, non sono mancati tuttavia alcuni disagi causati dalle condizioni meteorologiche, una situazione che dovrebbe migliorare nella giornata di giovedì, quando le temperature ritorneranno sulle medie stagionali per il sud Italia. Grazie. 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 Grazie.